Ehi, tu, vieni qua! Che c'è? Un mercenario che si faceva chiamare Ombra dell'Aquila è venuto ad Alponosso offrendo il suo aiuto. Un bravo ragazzo, avevo sentito parlare di lui. Mi sono detto Megacle, saranno dracme ben spese. Chiunque sia venuto ad Alponosso ti ha mentito. Sono io, l'Ombra dell'Aquila. Tu? Impossibile! Beh, tanto per cominciare, l'Aquila ce l'ho. Grazie, ora lo so. Ma l'altra Ombra dell'Aquila l'ho pagata una fortuna per preparare gli abitanti a un'invasione pirata. E a giudicare dalla tua espressione suppongo che non abbia funzionato. Già, allora gli ho chiesto di negoziare una tregua, ma ha fallito anche quello. I pirati stanno arrivando e ora non abbiamo speranza. La prossima volta assolda la vera Ombra dell'Aquila. Comunque, ora sono qui. Il villaggio di Alponosso ha una milizia? Non abbastanza forte. Ma se riuscirai a fermare i pirati prima che sbarchino, ti darò tutto ciò che resta nella tesoreria. Fermerò i pirati prima che sbarchino. Dopodiché tu mi aiuterai a trovare quell'impostore. Ti aiuterò ad ucciderlo. Da dove arrivano i pirati? Abbiamo avvistato la flotta pirata a nord di qui. Quanto è grande la flotta? Sono solo due navi, ma potrebbero essere centinaia a bordo. Se arrivano qui, siamo morti. Troverò chi si spaccia per me. Quando è l'ultima volta che l'hai visto? È venuto con le ultime navi mercantili. Ma non lo vedo da giorni. Non sarà facile trovarlo. Ma se affonderai i pirati, ti prometto che lo rintraccerò. È ora di far vedere ai pirati chi è la vera Ombra dell'Aquila. Spero che sappiate votare, schifosi pirati! Hai intenzione di aff... Da dove arrivano i pirati? Abbiamo avvistato... È ora di far vedere ai pirati chi è la vera Ombra dell'Aquila. Così la vera Ombra dell'Aquila tratta i pirati!